Difficile iniziare, bello eh, tante facce conosciute tutte insieme qui Che volete vedere? 100 applicazioni? Ma sì, sì, le vediamo, dai Quanta gente, quanti amici, va bene, dai, vediamo subito di vedere come fare Che succede? Sì? Avanti, prego Permesso? Permesso, buongiorno Buongiorno a lei Buongiorno, senta, ma è qui che fate stampe, lavori di grafica? Sì, tutti qua, tutta sta gente ha fatto i lavori qui dentro Oh, guarda, quanta gente Allora, ascolti, guardi, vado di fretta perché ho l'elettricista già Sì Settimana prossima io apro un pub, già è quasi tutto pronto Stanno a finire i lavori, sai, quelli dell'ultimo momento Mi so ricordato adesso, meno male, di fare i manifesti I manifesti e i volantini, voi li stampate? Eh, vabbè, certo che li stampiamo, però Oh, perfetto, perfetto, ok Allora, guardi, a me servirebbero, che so, un centinaio di manifesti, una roba del genere Un duemila volantini Guardi, per fare in fretta, per evitare anche problemi, le do, oltre che l'anticipo, non ci so problema assolutamente Io so amico di Mario È amico di Mario, eh, a te Le do il file, c'è un mio amico grafico che ha preparato tutto quanto Guardi, glielo do così almeno siete tranquilli, lo potete prendere, ok? Oh, grazie Che le posso dire? Ci sentiamo, ci vediamo settimana prossima Così facciamo tutto Oh, fretta, mi dispiace Non poterle essere d'aiuto Però, guardi, faremo dei lavori immensi Dobbiamo riempire sto pub Io mi fido di lei perché mi hanno parlato molto molto bene di lei Ok, la saluto, arrivederci Ma cinque minuti, no, niente Ti faccio vedere, facciamo Che disgrazia Ma vi capitano questi tizi che entrano così, eh? Che storia E che fate a sto punto? Cioè, glieli fate? Sti volantini, sti manifesti? Sì, no, amico di Mario si deve fare Poi ti chiede lo sconto per l'amico di Mario, giustamente Ma li fate, cioè Glielo ho preparato Almeno, da una parte, sì, credo che Il lavoro non si debba rifiutare, è giusto, però Limitarsi solo al manifesto Una cosa Sembra un po' limitativa Però avete in mano una cosa Che è importantissima Allora, su come è fatto il file Vabbè, ne abbiamo parlato l'anno scorso Di come farlo al meglio, eccetera Non voglio prendere quel discorso Teniamo conto che effettivamente Sia stato fatto bene C'è un file Questa è la vostra arma Questo qui, molte volte Non vi rendete conto Cosa potete preparare Con quello che è il file È incredibile È incredibile Grazie a tutti Grazie a tutti